Il modello che si prendono a casa è un rom, perché se tu sei romano, vieni sotto un ponte, ma non sei rom, puoi morire sotto il ponte, se invece sei rom pagheremo i romani per accogliersi. Ecco, scegliamo il modello che preferiamo. Io penso che noi dobbiamo preferire un modello che dica prima chi rispetta le regole, se occupi abusivamente, se non rispetti le regole, se metti in piedi delle zone franche, eccetera, eccetera, non avrai attenzione dalle amministrazioni prima chi rispetta le regole, prima chi paga le tasse, prima chi si comporta bene, prima chi rispetta la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni e poi parliamo di tutto il resto. Io penso che non sarei politicamente corretta, ma è una cosa giusta da fare, perché la politica l'assista di questi anni della sinistra ci ha devastato, ci ha devastato la politica sull'immigrazione irregolare, ma voi andate dicendo che gli immigrati con l'aumento di immigrazione irregolare aumentano i reati perché siete razzisti? No, noi lo andiamo dicendo perché siamo gente di buon senso, perché è ovvio che se tu fai entrare 500.000 persone in tre anni che non hanno una casa, non hanno una famiglia, non hanno un lavoro, non hanno una speranza, non stai facendo della solidarietà, stai solamente trovando braccia per la criminalità organizzata, non ci vuole un genio per capirlo, non ci vuole un genio per capire che se tu stabilisci di dire al mondo, all'intero globo terraqueo che in Italia puoi entrare solo se non rispetti le regole, perché questo è quello che ha fatto la sinistra in questi anni, non si poteva più entrare regolarmente per lavorare, azzerati i decreti flussi, potevi arrivare in Italia solamente attraverso i barconi. Figuratevi che io sono stato in un centro di accoglienza degli immigrati a Caltanissetta, uno dei più grandi della Sicilia e sapete qual è la prima nazionalità che voi trovate in un centro di accoglienza degli immigrati siciliano? pakistani. I pakistani prendono l'aereo dal Pakistan, arrivano in Africa, in Africa prendono la macchina, arrivano in Libia e prendono il barcone. Ma può mai essere seria una nazione che dice se vuoi venire qui lo devi fare pagando gli scafisti e il terrorismo internazionale, l'ISIS che controllano come si sa le coste dei porti della Libia? Io dico di no, io dico che una nazione normale ripristina il decreto flussi e dice questi sono gli immigrati che noi possiamo accogliere ogni anno, ai quali possiamo dare una vita dignitosa perché sei solidale se alla gente dai una possibilità di avere una speranza e per tutti gli altri non c'è spazio e noi non tollereremo che si violino le regole italiane, anche a dispetto dell'Europa. Qualche giorno fa quel genio del Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, tra un bicchiere di vino e l'altro, ci ha spiegato che la Commissione europea vigilerà, attenzione, attenzione sul fatto che il prossimo governo tuteli i diritti degli africani in Italia. A parte che non si è capito perché questi diritti li debba verificare l'Italia, ma poi andate a vedere a Ventimiglia che cosa fanno i francesi quando gli immigrati tentano di passare dall'Italia il confine per andare in Francia e poi mi dite che cos'è il rispetto dei diritti. Ma dico Juncker, l'Italia ha il dovere di far rispettare le sue regole, se tu entri in Italia legalmente, banalmente devi essere rimpatriato perché è un mio diritto rimpatriarti, quindi che stai dicendo? Allora basta a farsi dare gli ordini da gente che poi fa tutt'altro, basta considerarci come se fossimo una colonia, basta non avere rispetto dei nostri cittadini, noi adesso dobbiamo cominciare a far rispettare le regole. Lo farà il prossimo governo? Lo speriamo. Per tutto quello che farà di questo verso noi ci saremo, ci saremo quando arriveranno il blocco navale a largo delle coste della Libia, quando aumenteranno le pene per lo spaccio, secondo me lo dico in un parco che ha questo problema, in una città che ha questo problema, lo spaccio ai minorenni va configurato come tentato omicidio nel nostro codice penale, lo spaccio ai minori è tentato omicidio, sono tutte proposte che noi abbiamo già fatto, sono a disposizione di chi le vorrà realizzare, garantire sicurezza, basta pure con questa storia in Italia c'è il problema del sovrappollamento carcerario e per anni e anni la sinistra invece di costruire le carceri ha tolto i reati e noi facciamo così, non c'entrano, non c'entrano solo 60.000, allora questo reato lo togliamo, questo lo facciamo uscire prima, questo lo mandiamo a casa, non si può difendere la sicurezza dei cittadini se non c'è certezza della pena, vieni condannato, devi andare in galera e la pena te la fai tutta, basta con gli sconti di pena automatici, basta con i dimezzamenti a morte e basta con questa roba qui dell'Irano, quando arriveranno questi provvedimenti sulla legittima difesa, non vi devo dire niente, abbiamo fatto una campagnona, sto cercando di andare veloce perché piove, ma due cose le vorrete ascoltare, quindi anche sul tema della legittima difesa questa roba, ma non solo il giorno o la notte, ma il fatto di dire la difesa, ti puoi difendere, ma la difesa deve essere commisurata all'offesa, è una cosa che non ha molto senso, perché tu puoi chiedere di stabilire quale sia la difesa commisurata a un tale grado di offesa, a qualcuno che sia addestrato per questo, lo puoi chiedere alle forze dell'ordine, ma non lo puoi chiedere al cittadino comune svegliato alle 4 del mattino a casa sua che vede un'ombra in soggiorno, che cosa si pretende che queste persone facciano, che accendano la luce e dicano scusi lei malfattore, mi può dire esattamente cosa vuole fare così io mi regolo su come mi posso difendere, ma vuole solo rubare o mi vuole pure menare? Mi vuole menare o mi vuole menare parete? Vedete la follia? Allora io dico, atteso che non vogliamo uno Stato nel quale i cittadini sono costretti a difendersi da soli, perché noi vogliamo uno Stato che ti difenda, e ringraziamo e facciamo un applauso alle forze dell'ordine per le condizioni drammatiche nelle quali sono costretti ad operare, atteso che noi lavoriamo perché lo Stato faccia il suo lavoro, se lo Stato non fa il suo lavoro, e allora io dico nel dubbio difenditi, nel dubbio difenditi, perché le storie di quelli che non sono riusciti a difendersi, io le ho viste, gente complessata, completamente paralizzata su una sedia a rotelle con lo Stato che ti passa 600 euro al mese, perché sono entrati dentro casa per rubare e t'hanno preso abbastonate, gente che non avrebbe dovuto essere in territorio italiano se lo Stato avesse fatto il suo dovere, io dico difenditi, perché tra il rischio che ti faccia male tu, che sei la vittima e l'aggredito, e il rischio che si faccia male l'aggressore, non ho dubbi, se l'aggressore vuole stare al sicuro se ne sta a casa sua, non sta a casa mia, molto semplice. Norme di buon senso, il buon senso di difendere le nostre aziende, di difendere i nostri prodotti, il prodotto italiano di qualità, lo dico in una regione che ne sa, insomma, della qualità dei prodotti, di quanto noi negli anni della crisi abbiamo sopravvissuto grazie all'export di quei prodotti e di quanto sia fondamentale difendere il marchio di quei prodotti, perché l'Italia non ha paura di stare sui mercati mondiali dal tempi della Repubblica Marinare, tanto la qualità dei suoi prodotti è straordinaria rispetto a quello degli altri, ma perché questo continua a funzionare è fondamentale che quel prodotto sia riconoscibile e che non sia possibile contraffarlo e quindi guerra totale alla contraffazione, all'Italian Sounding, a tutto quello che massacra la credibilità dei nostri prodotti e che frutta, pensate un po', 60 miliardi di euro l'anno di fatturato, il parmesan, la pasta mafia, il vino il padrino e tutta questa roba che vendono come se fosse italiana sui mercati internazionali, invece vogliamo aiutare le nostre imprese a entrare nei mercati internazionali come le altre imprese vengono aiutate nelle altre nazioni dallo Stato per entrare da noi, provate a entrare nel mercato francese e non riuscirete a farlo, ma poi andate a guardare grazie alla compiacenza di questi governi fantoccio che abbiamo avuto dal 2011 in poi, che cosa si è comprata la Francia in questi anni di gioielli di famiglia italiani senza che nessuno dicesse niente? Dice ma siete nazionalisti? Siamo italiani, difendiamo l'Italia a 360 gradi, ci sarà un governo che farà tutto questo? Ci saremo, fratelli d'Italia? C'è, se invece ci sarà un governo che arriva e ci dice no dobbiamo fare il reddito di cittadinanza, diamo 800 euro al mese alla gente per stare a casa, allora no, no, per rispetto a chi produce, a chi lavora, a chi accura, a chi si fa il mazzo per far camminare l'Italia, quei soldi non li spendiamo per farti stare a casa, magari li spendiamo per aiutarti a trovare lavoro, per abbassare il cuneo contributivo, per aiutare chi vuole assumere a non dover dare migliaia e migliaia euro di soldi allo Stato che non è in grado di sostenere. Quindi servono politiche serie, per le politiche serie noi ci siamo a livello nazionale come a livello locale, Francesco lo sa, queste cose che io ho raccontato di livello nazionale chiaramente stanno anche nei nostri programmi a livello amministrativo, il tema della sicurezza, il tema delle famiglie, il sostegno alla natalità, anche qui non si può dire che state matti, perché in Italia ormai tutti, ma proprio tutti, 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 tutti devono poter fare dei figli, salvo un uomo e una donna sposati, quelli no, perché è una cosa antica, vecchia. E invece dare servizi, servizi alle famiglie, vivere la scelta della genitorialità come una libera scelta, non come un bene di lusso, non costringere una donna nel 2018 a dover ancora decidere tra essere madre e poter avere un posto di lavoro, aiutare le imprese che vogliono assumere le donne in età fertile perché metteteci a competere armi pari e poi si discuterà chi servono ai quote. Servizi, servizi, aiutare le famiglie. Perché guardate, possiamo fare le leggi migliori del mondo, ma o risolviamo il problema della demografia o l'Italia è spacciata? L'abbiamo capito questo? L'Italia tra 200 anni non esiste più, tra 30 anni noi crolla il nostro sistema di welfare perché noi avremo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano per mantenerle. O invertiamo i dati sulla demografia o siamo finiti, né a me sta bene che mi si dica, vabbè, tanto facciamo entrare gli immigrati che i figli li fanno loro. Io voglio che li facciano gli italiani perché non voglio rinunciare all'Italia, alla sua città, alla sua cultura, alla sua tradizione. Quindi la prima sfida è la sfida della famiglia, del sostegno alla famiglia anche se è politicamente scorretto, sostegno alla famiglia, sostegno a chi vuole mettere al mondo dei figli. Noi di tutto questo, su tutto questo siamo mobilitati, se scegliete Fratelli d'Italia sapete che è una garanzia di coerenza, di serietà, se credete nei valori del centrodestra largamente tentesi, beh, sapete insomma che siamo gli unici che non fanno le fuitine, come si diceva ogni tanto, non scappano e poi tornano. Noi siamo sempre stati a presidiare lo stesso campo, abbiamo questo pallino della coerenza e su di noi sapete che potete sempre fidarvi. Le nostre liste sono fatte di persone oneste che credono in quello che fanno, che fanno politica da anni, che possono sempre camminare a testa alta. Insomma, aiutate Francesco Rucco perché Francesco è una persona di esperienza provata, voi lo conoscete, lo sapete, sapete il lavoro che ha fatto nel Comune di Vicenza in questi anni e quindi lo conoscete così bene da sapere che non vi tradirà e aiutatelo con un gruppo forte di Fratelli d'Italia perché è come mettere in cassaforte il vostro voto. Grazie e in bocca al luce. Ovviamente vorrei evidenziare una cosa importante che farà piacere sicuramente a Giorgia Meloni che il partito di Fratelli d'Italia è il partito con il maggior numero di donne presenti nella lista del Consiglio Comunale. Quindi devo dire che in un momento in cui tante donne, anche perché evidentemente c'è un problema proprio nella qualità della vita della donna dove hanno difficoltà perché hanno problemi sul lavoro, hanno problemi nella gestione familiare e evidentemente non riescono a dedicarsi attivamente tutte alla vita politica, anche cittadina. Credo che sia una dimostrazione importante come un partito con Fratelli d'Italia ha dato spazio a tantissime donne. Credo che addirittura siamo al 50%, più del 50%. Quindi questo è molto importante, tra l'altro tutte le persone di qualità, le ho conosciute tutte, sia uomini che donne, qualche uomo magari... Esatto, perché se mi conosciuto solo le donne, non è un po'... Non pensate male. Ecco, quindi questo è una cosa che ci tenevo a dirti perché è veramente importante. Intanto il 10 giugno, inutile che lo ripeta, pioverà sicuramente tutta la settimana, quindi prepariamoci ad andare a votare in massa. non pensiamo al weekend al mare perché intanto piove, quindi tutti a votare. Mi raccomando, è importante perché è un primo turno anomalo. Ci sono soltanto centrodestra e centrosinistra. I 5 stelle non ci sono, potrebbe già essere un ballottaggio anticipato. Più andiamo a votare e più ci sono possibilità di vittoria. Grazie. Grazie. Grazie.